Spirosa diceva che chi ne tiene il potere ha sempre bisogno che le persone siano affette da tristezza e questa sera il potere è un po' di gioia e questa sera il potere è un po' di gioia e questa sera il potere è un po' di gioia Bello! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti